La promessa. Anticipazioni da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024. Don Carlos, rimasto solo un attimo con Simona, le confessa di essersi recato alla promessa perché preoccupato per lei. Esprime la sua inquietudine riguardo al fatto che lei non si mostri più in paese, e non gradisca le sue lettere. Simona dice che, ora che ha constatato che sta bene, potrebbe andarsene. Tuttavia, Don Carlos risponde che non può farlo, poiché i soldi guadagnati con le lezioni sono essenziali per lui. Simona, dopo aver appreso che Don Carlos riceve ben due pesetas allora, assume un'espressione preoccupata, e si chiede chi possa permettersi di pagare per le loro lezioni. Nella cucina, Lope si rivolge ad Ana, domandandole se Salvador abbia avuto una lite con Maria. Ana nega, e gli chiede il motivo della sua domanda. Lope racconta di aver visto Salvador profondamente triste, di averlo sentito urlare durante la notte in incubi legati alla guerra, e di come si svegli devastato ogni mattina. Rivela che Salvador assume delle pillole per cercare di calmarsi, ma Lope teme che alla fine possa perdere la ragione. Ana suggerisce a Lope di parlare direttamente con Salvador per capire meglio la situazione. Mauro, che ha ascoltato la conversazione, dubita delle affermazioni di Lope, sostenendo di non aver mai sentito Salvador urlare durante la notte. Tuttavia, Lope gli assicura che Salvador affronta incubi ogni notte. Curro raggiunge Martina in sala, e visibilmente frustrato, si confida con lei riguardo a suo padre. Esprime la delusione nel constatare che, nonostante gli avesse offerto una seconda possibilità, suo padre non sembra essere disposto a cambiare. Per sollevare il morale di Curro, Martina propone un picnic per il giorno successivo, cercando di offrire un momento di distensione e leggerezza in mezzo alle difficoltà. Maria si dirige verso la lavanderia dove Ana e Teresa stanno lavorando, tenendo in mano una rivista di abiti da sposa. Con entusiasmo, mostra alle amiche il vestito che vorrebbe indossare al suo matrimonio. Le due ragazze, amiche di Maria, le promettono di realizzare per lei l'abito dei suoi sogni, regalando un sorriso di gioia a Maria. Catalina si reca allo studio, dove Lorenzo è intento nella lettura del giornale. Al suo ingresso, Lorenzo chiede curioso come sia andata la visita da Cruz. Catalina, con un sorriso, risponde che Cruz si sta riprendendo. Poi, Catalina lo ringrazia per averle consigliato di delegare il lavoro al capomastro, consentendole così di accompagnare il padre Alonso da Cruz. Lorenzo, con un tono amichevole, le sottolinea che collaborando reciprocamente, entrambi ne trarranno vantaggio. Nel sontuoso salotto, Imena, Martina, Catalina, Beatrice e la baronessa Elisa si ritrovano per gustare il tè. La conversazione si snoda naturalmente sulla gravidanza di Imena, e sui bambini in generale. Tuttavia, la baronessa Elisa cambia argomento, menzionando Curro, affermando che qualche giorno prima sembrava insinuare qualcosa tra lei e Lorenzo. Le altre donne, sorprese, scuotono la testa in dissenso, dichiarando di non aver notato alcun accenno di insinuazione da parte di Curro riguardo alla presunta relazione tra la baronessa Elisa e Lorenzo. Pia si reca da Ana, e Pia inizia a raccontare di essere andata a parlare con la baronessa Elisa riguardo al defunto barone. L'obiettivo era capire se la signora potesse essere una possibile sospettata nell'intricata vicenda del presunto avvelenamento. Pia, però, esclude la baronessa Elisa da ogni coinvolgimento, proprio come hanno escluso Petra in precedenza. Ana, ascoltando attentamente, esprime perplessità, suggerendo che forse si è sbagliata a pensare che qualcuno abbia intenzionalmente avvelenato Pia. Beatrice e Martina passeggiano per il giardino, e Beatrice esorta Martina a mettere in atto un piano per conquistare Curro. Martina, a malincuore, accenda che l'indomani avranno un picnic tutti e tre insieme, ma lei inventerà un pretesto all'ultimo momento per assentarsi, e lasciare Beatrice e Curro da soli. Il loro dialogo viene interrotto da Maria, che si avvicina portando una limonata rinfrescante, e avvisa Martina che Catalina la sta aspettando in biblioteca per comunicarle qualcosa di importante. Martina si avvia nella tranquilla biblioteca dove Catalina la attende. Catalina le confida di aver ricevuto una lettera da Leonor, e propone di leggerla insieme, e Martina accetta con entusiasmo. Nella lettera, Leonor assicura di stare bene, e di imparare molto, esprimendo il suo amore per Parigi. Tuttavia, la mancanza di dettagli suscita la curiosità di Martina, che si stupisce della brevità del messaggio. Specialmente considerando che lei stessa aveva scritto una lettera a Leonor senza ricevere risposta. Catalina suggerisce che forse Leonor è semplicemente impegnata, ma decidono di scrivere insieme una risposta affettuosa. Quando Pia varca la soglia della cucina, Simona e Candela la informano che qualcuno sta pagando ben due pesetas a lezione a Don Carlos per farle studiare. Le due donne sono perplesse, incapaci di identificare il misterioso benefattore che sta erogando una somma così generosa. Pia rivela alle donne di avere un piano per scoprire chi si nasconde dietro a questo gesto generoso. Salvador è nel cortile, intento a tagliare la legna, quando all'improvviso, è colto da allucinazioni. Nella sua mente risuonano i rumori assordanti della guerra, tra spari e grida. Preso dal panico, comincia a gridare, chiedendo aiuto. Fortunatamente, arriva in suo soccorso Lope, il quale si affretta a raggiungerlo e cerca di tranquillizzarlo. La baronessa Elisa si reca da Lorenzo, e gli confida che nel pomeriggio è stata a prendere il tè con le ragazze. Mentre si godeva quel momento di svago, ha iniziato a delineare il suo piano per convincere Catalina a schierarsi dalla loro parte. Manuel informa Catalina che tra una settimana dovrà incontrare Don Pedro per comunicargli la sua decisione riguardo alla partecipazione al progetto sull'aviazione a Milano. In quel preciso istante, fa la sua entrata proprio Don Pedro, annunciando che l'investitore italiano, desidera incontrare Manuel il giorno successivo per la firma del contratto. Manuel, con evidente tristezza e rammarico dipinti sul volto, è costretto a rivelare a Don Pedro la sua dolorosa decisione. Dovrà rinunciare al progetto, poiché Imena è incinta. Mentre Salvador, ancora preso dal panico a causa delle allucinazioni riceve aiuto da Lope e Mauro, Lorenzo racconta alla baronessa Elisa che qualcuno del servizio deve aver riferito a Curro del loro bacio. Elisa suggerisce che debba essere qualcuno con cui Curro abbia confidenza, e Catalina ha involontariamente lasciato trapelare, nel pomeriggio, che Curro è molto amico di Ana. Di conseguenza, decidono di parlare con lei per fare chiarezza sulla situazione. Mauro consegna a Salvador delle pillole che ha trovato nella camera del ragazzo. Salvador spiega che sono state prescritte dal medico militare per aiutarlo a riprendersi, e condurre una vita normale. Mauro e Lope gli fanno notare che non sta bene, e che dovrebbe cercare aiuto, ma Salvador rifiuta, affermando di stare benissimo. Una volta soli, Mauro e Lope concordano sul fatto che è importante convincere Salvador a guarire prima del matrimonio. È mattina, e Curro e Beatriz, mentre si preparano per il picnic, discutono del fatto che Beatriz non sappia andare in bicicletta, e Curro è sorpreso dal fatto che Martina non ne fosse a conoscenza. In quel preciso istante, arriva Martina, chiama l'incuore e inventa una scusa per lasciare soli Curro e Beatriz per il picnic. Manuel e Imena stanno tornando da una passeggiata, e Manuel inizia a parlare con lei di Don Pedro e del progetto sull'aviazione a Milano. Le confida di aver rifiutato l'offerta, per rimanere al suo fianco e accanto al bambino che aspettano. Imena, pur dispiaciuta per il sacrificio compiuto da Manuel, gli rivolge un ringraziamento felice. Pia raggiunge Simona e Candela in cucina, svelando loro che le due pesetas donate a Don Carlos provengono direttamente dalle tasche di Romulo. Le due cuoche, perplesse, si chiedono il motivo di tale gesto, e perché Romulo non abbia fatto menzione di ciò. Però, nonostante la confusione, apprezzano la generosità di Romulo. Catalina e Martina sono impegnate in una partita a dama, ma Catalina è pensierosa. Confida a Martina di non capire perché la baronessa Elisa abbia rivolto così tante domande su Curro il pomeriggio precedente, chiedendosi quali potessero essere le sue intenzioni. Vengono raggiunte da Alonso, e Catalina gli dice che, secondo lei, la baronessa aveva qualche motivo nascosto per fare così tante domande su Curro. Petra si unisce al gruppo portando una limonata, e Alonso la informa sulla situazione di Cruz, cercando di rassicurarla. Mentre Curro e Beatrice giungono al luogo scelto per il picnic, Petra conduce Ana e Teresa nell'ufficio di Gregorio, dove si trovano anche Pia e Romulo. Petra, di fronte a tutti, afferma che la nuova situazione non è stata affatto facile per lei, ma desidera ringraziare Ana e Teresa per l'aiuto prezioso che le hanno offerto, lasciando tutti molto sorpresi da questo nuovo atteggiamento. Curro e Beatrice si stanno divertendo durante il picnic. Curro, con il suo sorriso contagioso, racconta una delle sue avventure con un cinghiale. Ma improvvisamente, il suo sguardo diventa pensieroso. Beatrice lo nota, e con curiosità gli chiede cosa lo preoccupi. Curro confida che stava pensando a Martina. Si rammarica del fatto che lei non abbia potuto unirsi a loro. Ana, Teresa, Maria, e Mauro decidono di prendersi una pausa. Dopo aver condiviso alcune riflessioni sui ringraziamenti espressi da Petra, la conversazione si sposta su Salvador. Maria chiede di lui, ma Mauro rivela che non ha trascorso una buona nottata, e sta cercando di riposare. Teresa, nel frattempo, condivide dettagli sul progetto aeronautico di Manuel. Tuttavia, tutti sono consapevoli che Imena, essendo incinta, rappresenterà un ostacolo per il progresso del progetto. Nel pomeriggio, Martina si imbatte in Curro, e gli chiede dettagli sul picnic. Curro le assicura che è andato bene, ma non può fare a meno di notare l'interesse romantico che Beatrice sembra nutrire nei suoi confronti. Con un'onesta schietta, Curro le fa sapere che Beatrice non suscita in lui alcun interesse. Martina, a malincuore, gli suggerisce di dare a Beatrice una possibilità, invitandolo implicitamente a conoscerla meglio, lasciandolo perplesso di fronte a questa nuova prospettiva. Ana sta dando una mano a Maria, aiutandola a completare i cartamodelli per il suo vestito da sposa, quando si unisce a loro Teresa. Maria, con un sorriso radiante, comunica che sta per recarsi a comprare la stoffa necessaria e che, successivamente, Antonia, una sua amica esperta in sartoria, si occuperà di cucire l'abito nuziale. Tuttavia, Teresa comunica che Antonia si è infortunata a una mano, e non sarà in grado di realizzare l'abito, quindi, Teresa suggerisce di rivolgersi a Petra, che è abile con l'ago e il filo. Quando Romulo varca la soglia della cucina, Simona e Candela gli domandano perché sia lui a coprire le spese delle lezioni con Don Carlos. Romulo, con un sorriso rassicurante, spiega che per lui sono soldi ben investiti se contribuiscono alle loro lezioni. Le rassicura sul versante finanziario, dicendo loro di non preoccuparsi, perché può permettersi di sostenere tali costi. Maria si ritira nella sua camera, e trova Ana assorta davanti alle fotografie che Manuel le aveva consegnato qualche giorno prima. Maria dice di sapere che Manuel aveva tenuto quelle foto sperando ancora in un possibile futuro con Ana. Ma ora, con Imena in attesa di un bambino, Manuel ha dovuto rinunciare a molti dei suoi sogni. Ana, con la malinconia nello sguardo, risponde che è giunto il momento di dimenticarlo. Nell'elegante ufficio di Gregorio, Romulo chiacchiera con lui amichevolmente, gioendo per il successo che sta caratterizzando la gestione della tenuta. I due sollevano i loro bicchieri in un brindisi colmo di soddisfazione, e infine, Romulo chiede a Gregorio di prendersi cura di Pia, definendola una donna straordinaria. Gregorio, con un'espressione risoluta, conferma la sua promessa di assicurarsi che Pia sia al sicuro e felice sotto la sua guida. Si è fatta sera, e Lorenzo si dirige verso lo studio, dove trova Catalina. Le pone una scatola sul tavolo, sperando che possa regalarle gioia. Catalina apre la scatola, e vi scopre la spilla che apparteneva a sua madre, quella stessa che aveva venduto cruz. Un sorriso di felicità si diffonde sul volto di Catalina, e chiede a Lorenzo il motivo di quel gesto. Lorenzo risponde spiegando che crede che quella spilla debba appartenere a Catalina, nel suo giusto posto. Gli sembrava ingiusto che fosse stata separata da lei. Catalina, commossa, ringrazia di cuore Lorenzo, che se ne va via soddisfatto. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.